era autunno sulla strada maestra andavano veloci al trotto due vetture nella carrotta davanti c'erano due donne una era la padrona emaciata e pallida l'altra la cameriera rubiconda e piena quando gli ali di capelli corti sfuggivano da sotto un cappellino scolorito la mano rossa in un guanto lacero li aggiustava nervosamente l'alto petto coperto da un fazzoletto con la fantasia da tappeto spirava salute gli occhi neri vivaci ora seguivano attraverso il finestrino i campi che correvano via ora lanciavano sguardi timorosi alla padrona ora osservavano inquieti gli angoli della carrozza davanti al naso della cameriera mondeggiava il cappellino della padrona appeso alla retina sulle due ginocchia era accucciato un cagnolino i piedi erano rialzati dalle scatole che stavano sul pavimento e vi sbattevano sopra in modo appena percettibile al suono degli scossoni delle molle del tintinio dei vetri con le mani unite sulle ginocchia gli occhi chiusi la padrona sobalzava devolmente sui cuscini sistemati dietro la schiena e corrugando leggermente la fronte soffocava una tossa insistente aveva in testa una cuffietta da notte bianca e uno scialletto azzurro annodato sul morbido e pallido collo una scriminatura dritta che scompariva sotto la cuffietta divideva i capelli castanni chiari impomatati straordinariamente lisci e c'era qualcosa di secco di morto nel biancore della pelle di quell'ampia scriminatura la pelle appassita un po giallastra non copriva in modo compatto i bei tratti fini del volto ed era arrossata sulle guance e sugli zigomi le labbra erano secche inquiete le rade ciglia non erano arricciate e la veste di panno da viaggio formava delle pieghe dritte sul petto incavato nonostante gli occhi fossero chiusi il viso della signora esprimeva stanchezza irritazione e una sofferenza abituale un lacchecco e gomiti poggiati al sedile sonnecchiava a cassetta il postiglione lanciando di tanto in tanto svelto un grido conduceva la forte quadriglia sudata gettando a tratti un'occhiata all'altro postiglione che lanciava di tanto in tanto un grido alla vettura di dietro le larghe impronte parallele dei cerchioni si allungavano regolari e profonde sul fango calcinoso della strada il cielo era grigio e freddo un'umida foschia si spandeva sui campi e sulla strada nella carrozza l'aria era soffocante e c'era odore di acqua di colonia e di polvere la malata gettò indietro la testa e lentamente aprì gli occhi i grandi occhi erano brillanti e di uno splendido colore scuro di nuovo disse respingendo nervosamente con la bella mano smagrita un lembo della mantella della cameriera che le sfiorava appena il piede e la sua bocca si contraste dolorosamente ma trescia raccolse con le due mani la mantella si sollevò sulle forti gambe e si sedette più in là il suo viso fresco si era accoperto di vivo rossore gli splendidi occhi scuri della malata seguivano avidamente i movimenti della cameriera la signora si puntellò con le due mani al sedile e cercò anche lei di sollevarsi per mettersi a sedere più su ma le forze non la seguirono la bocca le si contraste e tutto il suo viso si alterò in un'espressione di impotente feroce ironia se almeno tu mi aiutassi non serve ce la faccio da sola però non mettermi dietro quelle tue specie di sacchi fammi il favore e poi è meglio se non mi tocchi visto che non sei capace la signora chiuse gli occhi e risollevate le palpebre velocemente diede un'occhiata alla cameriera ma trescia guardandola si mordeva il rosso labbro inferiore un profondo sospiro si alzò dal petto della malata ma il sospiro ancora prima di finire si mutò in tosse si voltò contraste il viso e si nel petto con le due mani quando la tosse fu passata richiuse gli occhi e continuò a sedere immobile la carrozza e la carrozzella entrarono in un villaggio ma trescia tirò fuori una mano paffuta da sotto il fazzoletto e si segnò che c'è chiese la padrona una fermata signora perché ti segni ti sto chiedendo una chiesa signora la manata si voltò verso il finestrino e prese a segnarsi lentamente guardando con gli occhi spalancati la grande chiesa del paese che la carrozza della malata stava sorpassando la carrozza e la carrozzella si fermarono insieme alla stazione di posta dalla carrozzella scesero il marito della donna malata e il dottore e si avvicinarono alla carrozza come vi sentite chiese il dottore sentendole il polso allora come stai mia cara non ti sei stancata chiese il marito in francese non vuoi scendere magari la trescia raccolti i fagotti stava rannicchiata in un angolo per non disturbare la conversazione non c'è male lo stesso rispose la malata non scenderò il marito rimasto un po in piedi entrò nell'edificio della stazione la trescia saltata giù dalla carrozza corse in punta di piedi nel fango verso la porta se mi sento male io questa non è una ragione per cui voi non dobbiate far colazione disse la malata sorridendo leggermente al dottore che stava in piedi accanto al finestrino a nessuno di loro importa niente di me aggiunse tra sé appena il dottore allontanandosi da lei a passo lento ebbe salito di corsa ai gradini della stazione loro stanno bene così è lo stesso oh mio dio allora eduardi vanovi disse il marito andando incontro al dottore fregandosi le mani con un sorriso allegro ho ordinato di portare la cesta da viaggio cosa ne pensate in proposito non male rispose il dottore allora come sta chiese con un sospiro il marito abbassando la voce e sollevando le sopracciglia lo dicevo non solo non ce la farà ad arrivare in italia ma voglia dio che resista fino a mosca specialmente su questa strada cosa fare dunque addio mio dio mio il marito si coprì gli occhi con la mano dai qui aggiunse verso l'uomo che portava la cesta da viaggio bisognava restare rispose il dottore dopo aver stretto le spalle ma dite cosa mai potevo fare replicò il marito eppure ha usato ogni mezzo per trattenerla ho parlato delle nostre risorse economiche dei bambini che dobbiamo lasciare nei miei affari non vuol sentire niente fa piani per la vita all'estero come se fosse sana e dirle delle sue condizioni significherebbe ucciderla ma è già morta dovete saperlo così lì dimitrie una persona non può vivere quando non ha polmoni e i polmoni non possono ricrescere è triste atroce ma che fare il nostro e il vostro compito consiste solo nel rendere la sua fine per quanto possibile serena a questo punto è necessario un confessore a mio dio ma voi afferrate la mia situazione come posso ricordarle le ultime volontà sia quel che sia questo non glielo dirò sapete bene com'è buona comunque cercate di convincerla ad aspettare l'inverno per il viaggio disse il dottore scuotendo significativamente la testa altrimenti per strada potrebbe essere peggio axiuscia ehi axiuscia strillava la figlia del mastro di posta infilato dalla testa il giacchino bordato e dondolando sui due piedi all'ingresso posteriore infangato andiamo a vedere la signora di sirchino dicono che la portano all'estero per una malattia di petto non ho ancora mai visto come sono i malati di tisi axiuscia comparve sulla soglia e ambedue presi per mano corsero fuori dal portone rallentato il passo passarono accanto alla carrozza e dietro un'occhiata dal finestrino abbassato la malata voltò la testa verso di loro ma notata la loro curiosità si rabbuiò e si rivoltò mamma mia disse la figlia del mastro di posta girando svelto la testa che bellezza straordinaria era e ora che è successo ha persino paura hai visto hai visto axiuscia si com'è magra a noi axiuscia andiamo a vedere ancora come se andassimo al pozzo guarda si è voltata ma io l'ho vista ancora che pena mascia ma che fango anche rispose mascia e ambedue rientrarono di corsa dal portone devo essere diventata orribile pensava la malata si potesse arrivare più in fretta più in fretta all'estero la mi rimetterò presto allora come stai mia cara disse il marito avvicinandosi alla carrozza mentre ancora masticava un boccone sempre una stessa e unica domanda pensò la malata e lui manza non c'è male lanciò attraverso i denti lo sai mia cara temo che starai peggio se viaggiamo con questo tempo edward ivania dice lo stesso non sarebbe meglio rientrare e la taceva risentita il tempo forse si rimetterà la strada si riassesterà e tu staresti meglio potremmo anche andare tutti insieme scusami se non ti avessi dato ascolto per tanto tempo ora sarei a berlino e sarei del tutto guarita che fare angelo mio non era possibile lo sai ma ora se rimanessi per un mese ti rimetteresti benissimo io porterei a termine i miei affari e potremmo prendere i bambini i bambini stanno bene io invece no eppure devi capire mia cara che con questo tempo se ti sentissi peggio per la strada allora almeno a casa che cosa a casa morire a casa rispose con stizza la malata ma la parola morire evidentemente la spaventò guardò il marito con aria supplichevole interrogativa quello abbassò gli occhi e taceva la bocca della malata si contrasta all'improvviso in una smorfia infantile e le lacrime cominciarono a scenderle dagli occhi il marito si coprì il viso con un fazzoletto e in silenzio si allontanò dalla carrozza no voglio andare disse la malata alzò gli occhi al cielo uni le mani iniziò a sussurrare parole sconnesse mio dio perché mai diceva e le lacrime le scendevano più copiose pregò a lungo e con fervore ma nel petto provava sempre lo stesso dolore e la stessa oppressione nel cielo nei campi e per la strada era sempre griso e nuvoloso e la stessa foschia autunnale né più fitta né più rada continuava a spandersi sul fango della strada sui tette sulla carrozza e sui tulupi dei postiglioni che chiacchierando con voci forti e allegre ungevano e attaccavano la carrozza la carrozza era stata attaccata ma il postiglione indugiava era passato un momento nell'isba riservata ai postiglioni nell'isba c'era caldo soffocante scuro e opprimente c'era odore di abitato di pane al forno di cavolo e di pelle di pecora alcuni postiglioni erano nella stanza la cuoca si dava da fare accanto alla stufa sulla stufa avvolto in pelli di pecora era steso un malato zio sfedor ehi zio sfedor disse un ragazzo un postiglione con un tulup e la frusta alla cintola entrando nella camera rivolgendosi al malato tu parolaio cosa vuoi da fedca replicò uno dei postiglioni vada ti aspettano in carrozza voglio chiedergli gli stivali ho rotto i miei rispose il ragazzo mandando indietro i capelli aggiustando i quanti alla cintola o forse dorme ehi zio sfedor ripete avvicinandosi alla stufa che vuoi si sentì una debole voce e un volto magro e rossiccio si sporse giù dalla stufa una larga mano smagrita impallidita coperta di peli stava tirando l'armiac sulla spalla guzza dentro una camicola sporca a mi da bere fratello che vuoi il ragazzo porse l'attingitoio con l'acqua ebbene fedia disse quello dondolandosi gli stivali nuovi dico ora non ti servono dagli a me dico non ci devi camminare il malato avvicinato alla testa stanca l'attingitoio lucente e bagnando i baffi radie pendenti nell'acqua scura beveva fiaccamente e avidamente la barba ispida era sporca gli occhi infossati e smorti si sollevarono con fatica sul volto del ragazzo lasciata l'acqua egli voleva alzare una mano per asciugare le labbra bagnate ma non poté e si asciugò con la manica dell'armiac tacendo e respirando pesantemente col naso guardò dritto negli occhi del ragazzo mentre raccoglieva le forze forse gli hai già promessi a qualcuno disse il ragazzo allora è inutile il fatto principale è che in cortile è bagnato e io devo partire per lavoro così ho pensato chiederò gli stivali a fedca dico a lui non servono ma se invece servono a te dillo nel petto del malato qualcosa iniziò a scorrere e a gorgogliare si sporse e quasi soffocava per un'irrisolvibile tosse di gola ma a che gli servono ci mise a blaterare per tutta l'isba la cuoca in preda a un'inaspettata collera è più di un mese che non scende dalla stufa guarda si spolmona perfino a te fa male dentro quando lo senti e a che gli servono gli stivali non lo seppelliranno con gli stivali nuovi ed è già tempo da un pezzo perdona signore il mio peccato guarda si spolmona almeno bisognerebbe portarlo da qualche parte in un'altra isba o chissà dove ospedali del genere sai in città ci sono altrimenti è un vero affare ha occupato tutto l'angolo e fine non hai spazio e chiedono pure la pulizia e si riega su monta i signori aspettano gridò dalla porta il mastro di posta se riega voleva andarsene senza aspettare la risposta ma il malato mentre tossiva gli aveva fatto cenno con gli occhi che voleva rispondere prenditi pure gli stivali se riega disse dopo aver soffocato la tosse aver ripreso un po fiato questo solo compra una lapide quando sarò morto aggiunse rocco grazie zio allora riprendo e la lapide te lo giuro la comprerò ecco ragazzi avete sentito poter giungere il malato e nuovamente si sporse giù e quasi soffocava bene abbiamo sentito disse uno dei postiglioni va a metterti in cassetta se riega altrimenti ecco che torna di corsa il vecchio la signora di sirchi non sai è malata se riega si tolse agilmente gli stivali rotti sproporzionatamente grandi e li gettò sotto una panca gli stivali nuovi di zio fiedor gli stavano a pennello e se riega guardandoseli usciva sulla carrozza che stivali importanti dammeli che te li lucido disse il postiglione con il grasso in mano nel momento in cui se riega arrampicandosi a cassetta raccoglieva le redini te li ha dati per niente non sarà invidioso rispose se riega tirandosi su e girando intorno alle gambe i lembi dell'armiac partiamo ehi voi carini gridò ai cavalli schioccando la frusta e la carrozza e la carrozzella con i loro passeggeri le loro valigie i loro bagagli scomparendo nella grigia nebbia autunnale partirono velocemente per la strada bagnata il postiglione malato rimase sulla stufa dell'isba soffocante e senza smettere di tossire a stento si girò sull'altro fianco e si chetò nell'isba fino a sera arrivarono se ne andarono mangiarono il malato non si sentiva prima che fosse notte la cuoca si arrampicò sulla stufa e scavalcando le gambe di lui prese il tulup non essere in collera con me nastasia disse il malato presto te lo libererò quest'angolo d'accordo d'accordo non fa niente borbotava nastasia ma cos'è che ti fa male zio di l'interno non fa che spasimare lo satio cos'è forse ti fa male anche la gola quando tossisci mi fa male dappertutto la mia ora è arrivata ecco cosa oh 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 già mette il malato copriti le gambe così disse nastasia stendendogli addosso l'armiac mentre scendeva dalla stufa per tutta la notte nell'isba splendette debolmente un lumino nastasia e una decina di postiglioni russando forte dormivano sul pavimento e sulle panche solo il malato ansimava debolmente tossiva e si rigirava sulla stufa verso mattina si acquietò del tutto è strano quello che mi sono sognata stanotte diceva la cuoca stilacchiandosi nella penombra il mattino seguente sogno che zio svedor è sceso dalla stufa ed è andato a far legna su nastia dice ci darò una mano allora io gli dico ma che far legna ma lui afferra l'ascia e comincia a tagliare così svelto così svelto che volano le schegge insomma dico io eppure è rimalato no dice sto bene ma come alza il braccio sono stata presa dal panico come mi metto a gridare mi sono svegliata è già morto forse zio svedor ehi zio siodor non rispondeva non è che è davvero morto andiamo a vedere disse uno dei postiglioni che si erano svegliati la povera mano che pendeva dalla stufa coperta di pelli rossicci era fredda e pallida andiamo a dire al mastro di posta che forse è morto disse un postiglione fiodor non aveva parenti era di lontano il giorno seguente lo seppellirono nel nuovo cimitero dietro il boschetto e nastasia per alcuni giorni raccontò a tutti del sogno che aveva fatto e del fatto che lei per prima si era accorta che zio fiodor se n'era andato arrivò la primavera per le strade bagnate della città tra pezzi di retame ghiacciato mormoravano frettolosi ruscelli i colori dei vestiti e i suoni dei discorsi dei passanti erano vivaci nei giardinetti oltre gli steccati si gonfiavano le gemme degli alberi e i loro rami oscillavano in modo appena percettibile per il vento fresco dovunque si versavano e picchettavano gocce trasparenti i passeri pigolavano goffamente e svolazzavano con le loro aluce sul sole soleggiato sugli steccati le case gli alberi tutto si muoveva e luceva c'era gioia gioventù e in cielo e in terra e nel cuore degli uomini in una delle strade principali davanti a una grande casa signorile era stata stesa della paglia secca nella casa era in fin di vita la stessa malata che viaggiava in fretta verso l'estero accanto alla porta chiusa della camera stavano in piedi il marito della malata e una donna anziana sul divano sedeva il prete con gli occhi bassi tenendo qualcosa avvolto nell'epitrachelio in un angolo su una poltrona alla voltaire era stesa una vecchietta la madre della malata e piangeva amaramente accanto a lei una cameriera teneva in mano un fazzoletto da naso pulito aspettando che la vecchietta glielo chiedesse una seconda le strofinava con qualcosa le tempie e le soffiava sotto la cuffietta sulla testa canuta beh cristo sia con voi amica mia diceva il marito alla donna anziana che stava in piedi accanto a lui sulla porta ha una tale fede in voi voi sapete parlarle in un modo convincetela per bene colombella andate dunque egli voleva già aprire la porta ma la cucina lo trattenne avvicinò più di una volta il fazzoletto agli occhi e scosse la testa ecco ora mi sembra di non avere più gli occhi bagnati di lacrime disse e aperta lei stessa la porta la passò il marito era in grande agitazione e sembrava totalmente smarrito si stava dirigendo verso la vecchietta ma fatti solo pochi passi si girò attraversò la camera e si avvicinò al prete il prete lo guardò alzò le sopracciglia al cielo e sospirò anche la folta barbetta brizzolata si alzò all'insù e si abbassò mio dio mio dio disse il marito che fare disse sospirando il prete e nuovamente le sopracciglia e la barbetta si alzarono all'insù e si abbassarono c'è qui anche sua madre disse il marito quasi con disperazione non lo sopporterà le vuole tanto di quel bene non lo so se almeno voi padre cercaste di tranquillizzarla e convincerla ad andarsene di qui il prete si alzò e si avvicinò alla vecchietta è proprio vero nessuno può sapere quanto vale il cuore di una mamma disse tuttavia dio è misericordioso il viso della vecchietta improvvisamente prese a contrarsi tutto e le venne un singulto esterico dio è misericordioso continuò il prete quando quella si fu un po' calmata vi posso raccontare che nella mia parrocchia c'era un malato molto più di maria dimitrievna e invece un borghesuccio qualsiasi lo guarì in breve tempo con delle erbe e quello stesso borghese ora è a mosca dicevo a vasili dimitrievia si potrebbe tentare almeno per la manata sarebbe un conforto per dio tutto è possibile no non ha più da vivere disse la vecchietta invece di me dio si prende lei e il singulto esterico riprese talmente forza che perse i sensi il marito della manata si coprì il volto con le mani e corse fuori dalla stanza nel corridoio la prima persona che gli venne incontro fu un bambino di sei anni che rincorreva per di fiato una bambina più piccola allora non mi dite di portare i bambini dalla mammina chiese la gnania no non li vuole vedere la sconvolge il bambino si fermò un minuto continuando a fissare il viso del padre poi improvvisamente scalciò e con un grido allegro corse oltre fa finta di essere una morella fa finta di essere una morella papino chiedò il bambino indicando la sorella intanto nell'altra stanza la cugina sedeva accanto alla malata e con un discorso condotto ad arte cercava di prepararla al pensiero della morte il dottore all'altra finestra mescolava una bevanda la malata con una vestaglia bianca completamente circondata da cuscini sedeva sul letto e guardava in silenzio la cugina amica mia disse interrompendola inaspettatamente non mi dovete preparare non prendetemi per una bambina sono una cristiana so tutto so che non ho molto da vivere so che se mio marito mi avesse dato ascolto prima sarei stata in italia e forse anzi sicuramente sarei guarita questo glielo dicevano tutti ma che fare evidentemente dio desidera così noi tutti abbiamo molti peccati questo lo so ma confido nella grazia di dio tutti vengono perdonati di sicuro tutti vengono perdonati io cerco di capire me stessa anch'io avevo molti peccati amica mia ma in cambio quanto ho sofferto ho cercato di sopportare con pazienza le mie sofferenze e si chiamasse prete amica mia vi sentireste ancora più leggera se vi comunicaste disse la cugina la malata abbassò la testa in cenno di assenso dio perdona me peccatrice mormorò la cucina uscì e fece un cenno con gli occhi al prete è un angelo disse il marito con le lacrime agli occhi il marito si mise a piangere il prete passò la porta la vecchietta era ancora senza conoscenza e nella prima camera si fece un gran silenzio dopo cinque minuti il prete uscì dalla porta e toltosi l'epitrachelio si ravviò i capelli grazie a dio è più tranquilla ora disse desidera vedervi il marito la cucina entrarono la malata piangeva sommessamente guardando un'immagine felicitazioni mia cara disse il marito grazie come mi sento meglio ora che dolcezza incomprensibile provo diceva la malata e un leggero sorriso giocava sulle sue labbra sottili com'è misericordioso dio non è vero che egli è misericordioso onnipotente e di nuovo rivolse uno sguardo ardentemente supplici all'immagine con gli occhi pieni di lacrime poi all'improvviso fu come se ne fosse venuto qualcosa alla mente accenni fece avvicinare a sé il marito non vuoi fare mai niente di quello che ti chiedo disse con voce debole e scontenta il marito allungato il collo ascoltava mansueto cosa mia cara quante volte ti ho detto che questi dottori non capiscono niente ci sono delle semplici guaritrici quelle guariscono ecco il padre diceva un borghese manda chiamarlo chi mia cara mio dio non vuoi capire niente e la malata contrasta il viso e chiuse gli occhi il dottore avvicinatosi a lei ne prese la mano le pulsazioni andavano sensibilmente indebolendosi fece un cenno al marito la malata notò questo gesto e spaventata si guardò intorno la cucina si voltò e iniziò a piangere non piangere non tormentare te stessa e me diceva la malata ciò mi toglie quel po di tranquillità che mi resta sei un angelo disse la cugina baciandole la mano no baciami qui solo ai morti si bacia la mano mio dio mio dio quella stessa sera la malata era già un cadavere e il cadavere stava in una bara nel salone della grande casa nella grande stanza con le porte chiuse sedeva un sacrestano e con voce nasale cadenzata leggeva i salmi di davide la viva luce dei ceri cadeva dagli alti candelabri d'argento sulla pallida fronte della defunta sulle pesanti mani cere e sulle pieghe pietrificate della colte funebre che si sollevava paurosamente sulle ginocchia e sulle dita dei piedi il sacrestano senza capire le proprie parole leggeva cadenzatamente e nella stanza silenziosa le parole risuonavano e morivano in un modo strano di tanto in tanto da una remota camera arrivavano suoni di voci infantili e il loro scalpitio se nasconderai il tuo volto si turberanno suonava il salterio se prenderai loro l'anima moriranno e ritorneranno polvere se ridarai la tua anima risorgeranno e rinnoveranno il volto della terra sia gloria al signore nei cieli il volto della defunta era severo sereno e maestoso niente si muoveva né sulla fredda e pura fronte né sulle labbra fortemente serrate era il colmo dell'attenzione ma capiva forse almeno ora quelle solenne parole un mese dopo sulla tomba della defunta era innalzata una cappella in pietra sulla tomba del postiglione invece non c'era ancora una lapide e solo l'erba verdolina si faceva strada sopra il tumulo che fungeva da unico segno dell'esistenza passata di un uomo farai peccato se riega diceva una volta la cuoca alla stazione se non compri la lapide fiedor dicevi è inverno è inverno ma ora perché mai non mantieni la parola eppure è stato davanti a me è già venuto da te una volta a chiedere se non la compri tornerà un'altra volta si metterà a soffocarti ebbene lo fosse ritrattando rispondeva seriega comprerò la lapide come ho detto la comprerò la comprerò da un rublo e mezzo non ho dimenticato ma bisogna andarla a prendere quando capiterò in città allora la comprerò avresti dovuto metterci almeno una croce ecco cosa disse un vecchio postiglione altrimenti è proprio brutto i stivali però li porti dove gliela trovi una croce non la puoi mica sgrossare da un ceppo ma che dici non la puoi sgrossare da un ceppo prendi lascia e vai nel boschetto al mattino presto allora la sgrosserai puoi tagliare un frassino qualche altra cosa e avrai pronta la croce se no puoi anche ad andare ad offrire da bere della vodka al guardiaboschi per ogni schifezza non c'è modo di dissetarlo ecco giorni fa ho spezzato una leva ne ho abbattuta una nuova pesante nessuno mi ha detto una parola al mattino presto ai primi albori seriega prese lascia e andò nel boschetto su tutto era steso un freddo velo opaco di rugiada ancora cadente non illuminata dal sole l'oriente si schiariva impercettibilmente spandendo la sua debole luce sulla volta del cielo velata da sottili nubi non si muovevano né un'erbetta in basso né una foglia sul ramo più alto di un albero solo di quando in quando suoni appena percettibili di ali nel folto di un albero o frusci per terra interrompevano il silenzio del bosco improvvisamente uno strano suono estraneo alla natura si diffuse e morì al margine della boscaglia ma nuovamente si sentì il suono e iniziò a ripetersi regolarmente in basso accanto al tronco di uno degli alberi immobili una delle cime cominciò a trepidare singolarmente le sue foglie succose iniziarono a sussurrare qualcosa e un capirosso che stava su uno dei suoi rami con un fischio svolazzò due volte e contraendo la codina si posò su di un altro albero l'ascia in basso suonava sempre più sordamente bianche schegge succose volavano sull'erba rugiadosa e si sentiva un leggero crepitio sotto i colpi l'albero sussultò con tutto il corpo si piegò e velocemente si raddrizzò oscillando spaventato sulla sua radice per un attimo tutto si acquietò ma nuovamente l'albero si piegò nuovamente si sentì il crepitio sul suo tronco e rompendo i ramoscelli abbassati i rami esso piombò sull'umida terra con la cima i suoni dell'ascia e dei passi si spensero il capirosso fischiò e volò più in alto il ramo che aveva toccato con le sue ali oscillò per un po' e si fermò come anche gli altri con tutte le foglie gli alberi si distinguevano ancora più gioiosamente nel nuovo spazio con i loro rami immobili i primi raggi del sole perforata una nuvola trasparente risplendettero nel firmamento e passarono di corsa per la terra e il cielo la nebbia ondate iniziò a spandersi nei valoncelli la rugiada splendendo iniziò a giocare sul verde le nuvolette biancastre trasparenti, frettolose, si dispersero per la volta celeste gli uccelli facevano chiasso nel folto degli alberi e come persi cinquettavano qualcosa di felice le foglie succose mormoravano gioiosamente e tranquillamente sulle cime e i rami degli alberi vivi lentamente, maestosamente cominciarono ad agitarsi sull'albero morto, accasciato